C'entra la seconda vittoria consecutiva, la Virtus Cusio, Talgata Bonan, che supera con un pesante 5-0 il romagnano. Al 39esimo Virtus Cusio in vantaggio, lancio lungo di Cattaneo che raggiunge Papa, che è entrato in aria, serve un assist delizioso per Gossi, che da pochi passi trafiggia Eviglia e regala l'1-0 ai padroni di casa. Al 45esimo si conferma in versione assistman Papa, che vince un contrasto a centrocampo e poi lancia Lissoni, che è entrato in aria, supera Eviglia e porta sul 2-0 il punteggio. Nella ripresa, all'11esimo il 3-0 dei padroni di casa. Ennesimo assist geniale di Papa per Gossi, che è entrato in aria, realizza con una prodezza balistica il 3-0. Al 30esimo il poker è servito, lancio lunghissimo di Urban per lo scatto di Papa, che dopo aver vinto un rimpallo, deposita porta vuota il 4-0. C'è ancora tempo per la cinquina, che arriva all'84esimo, con ancora Rossi protagonista, che è lasciato libero di calciare, supera ancora Eviglia e sigla la sua personale dripletta, che vale il 5-0 finale. Virtus Cusio batte il romagnano 5-0.